pronto 112 sezione cala alvadesi pronto l'emergenza sono appena stato rapilato in via gra... cazzi stai allo? c'è appena stato un omicidio in casa mia chiama pompe funebri pronto? si salve ho appena fatto un graffiatto alla mia Mercedes cosa? emergenza cazzo chiama ambulanza che giri di fuoco oh elicopteri cosa è successo collega? cosa è successo? hanno graffiato Mercedes oh quelle mie madre vedi al cazzo veniamo a salvare subito subito la cane